Sono sette i candidati terramani del Movimento 5 Stelle in corsa per le elezioni regionali a sostegno della candidata alla presidenza Sara Marcozzi. La lista provinciale di M5S alle prossime elezioni è stata presentata ufficialmente nella sede elettorale di Via Oberdan. Candidature che vogliono rappresentare una sorta di spaccato del mondo professionale e della cosiddetta società civile. A presentare la lista provinciale parlamentare Fabio Berardini, Antonio Zennano e Valentina Corneli che hanno rivendicato al Movimento 5 Stelle una coerenza e una capacità di governo che non apparterebbe alle altre forze politiche. Noi in questa squadra di gente nuova abbiamo medici, abbiamo avvocati, abbiamo attori di fama nazionale, persone che si presentano con un unico simbolo, un'unica lista, quella del Movimento 5 Stelle, coerentemente. Dall'altra parte abbiamo ancora una volta una cozzaglia di liste. Vogliamo portare un nuovo modo di fare politica. Veramente il 10 febbraio sarà un referendum tra la vecchia classe politica e una nuova. Noi abbiamo ottenuto tanti risultati in Parlamento, anche con la prossima approvazione del reddito di cittadinanza e tante nuove riforme. Vogliamo cambiare l'Abruzzo. Adesso l'epoca dei lamenti è finita, quindi lamentarsi per la sanità, lamentarsi per il turismo, lamentarsi per l'acqua sporca l'estate al mare. Questa volta i cittadini avranno un'opportunità. Quindi l'unica scelta di cambiamento, l'unica scelta di discontinuità dal PD di D'Alfonso e dal centro-destra, che già si presenta con un candidato sconosciuto, è il Movimento 5 Stelle. Quindi chiediamo veramente una possibilità di governare questa regione. Un altro tema è il rilancio del turismo. Abbiamo il caso della montagna Terramana, che è stata completamente abbandonata. Però l'attività non è l'esempio di una situazione che è stata lasciata andare per tanti anni e adesso siamo quasi a zero su questo tema. Un altro punto sarà la ricostruzione. L'ufficio, l'USR, che è gestito dalla regione Abruzzo, ha fatto veramente troppe poche pratiche e quindi dobbiamo fare di più. Come fare per fare di più? Servono tecnici. L'ufficio va potenziato da subito con nuovi tecnici, che dovranno arrivare da distacco, ad esempio, dalle sedi di Pescaro o dell'Aquila e dovranno venire a Terramo per sfoltire tutte queste pratiche, perché se no la ricostruzione non potrà mai ripartire.